Ora voglio dirti il mio segreto. Va bene. Vedo la gente morta. Quando dormi? Quando sei meglio? Morti come? Nelle pare? Nella tomba? Vanno in giro come persone normali. Non si vedono tra loro. Vedono solo quello che vogliono vedere. Non sanno di essere morti. Vivi spesso? Continuamente. Sono dappertutto. Non lo racconterai a nessuno il mio segreto. Vero? No, te lo ho detto. Resterai qui finché non mi addormento? Certo. No. 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 Grazie.